ciao a tutti e bentornati qui Shesanna in questo video andremo a recensire la nuova collezione di Kiko ovvero la Fruit Explosion una collezione che in realtà dall'ente prima non mi ispirava particolarmente ma poi una volta in negozio ho finito per acquistare molto di più di quanto avevo preventivato come sempre in questi video vi farò una recensione completa di tutta la collezione vi dirò quali prodotti ho deciso di non acquistare e perché mentre quelli che ho acquistato andremo a testarli insieme detto questo come sempre bando alle ciance e cominciamo partiamo con una piccola premessa questa collezione non è la collezione estiva di Kiko infatti ho chiesto alla commessa e la collezione estiva uscirà tra qualche settimana vi avevo fatto vedere su instagram qualche foto di una collezione che è uscita sul sito di Kiko Arabia che penso proprio sia la collezione che arriverà da noi e devo dire mi incuriosiva tantissimo soprattutto una palette di ombretti e quando ho visto questa collezione ho detto mi aspettavo qualcosa di totalmente diverso questa infatti è una capsule collection è più piccolina ha un tema più fresco e simpatico che è quello della frutta ma nei packaging e nei prodotti è un pochino meno lussuosa tra virgolette di altre collezioni alle quali Kiko ci ha abituati partiamo dai prodotti skin care che spesso Kiko inserisce all'interno di queste collezioni e che devo dire io ho deciso di non acquistare perché per quanto riguarda la skin care ho già i miei prodotti di fiducia e perché devo dire che ho testato qualche prodotto skin care di Kiko e non sono rimasta particolarmente colpita il primo prodotto è uno scrub corpo al cocomero che dovrebbe esfoliare la nostra pelle senza irritarla mentre il secondo prodotto è una maschera notte al cocco che mi ha incuriosita un pochino perché appunto è una maschera che loro segnalano che al mattino non va risciacquata e perché devo dire che il cocco è una fragranza un ingrediente che a me piace molto ma alla fine ho preferito concentrarmi sui prodotti makeup partendo dalla base il primo prodotto makeup è appunto un primer viso un primer viso che da claim contiene il 70 per cento di acqua quindi dovrebbe essere un prodotto davvero molto fresco davvero molto sottile sulla pelle che ha come obiettivo quello di andare a uniformarla andando anche un pochino a riempire i pori dilatati a camuffare le nostre imperfezioni perché comunque definito un blurring primer ed andare appunto anche ad uniformare l'incarnato infatti può essere utilizzato da solo o come base per un fondotinta devo dirvi che questo prodotto da claim incuriosiva molto ma quando l'ho sbocciato in negozio la texture era davvero molto molto liquida e quindi mi ha lasciato un pochino perplessa perché con una texture così liquida come si fa ad avere un effetto blurring riempitivo poi ho guardato gli ingredienti il secondo ingrediente dopo l'acqua appunto è il dimeticone quindi si tratta comunque di una base siliconica sono prodotti che io non utilizzo tutti i giorni e ho già la mia base di fiducia che come sapete se mi seguite è la prime damporless di Too Faced e quindi è un prodotto che alla fine ho deciso di non acquistare devo dire che per quanto riguarda il claim di essere uniformante ho qualche dubbio perché sembrava colorata all'interno della boccetta ma una volta sfumata sulla mano è totalmente trasparente quindi effettivamente secondo me se va a minimizzare le discromie lo fa veramente veramente leggermente perché la colorazione era praticamente impercettibile una volta sfumata se invece cercate una base molto fresca che vada a prolungarvi la durata del makeup potrebbe essere il prodotto per voi per quanto riguarda il claim di andare appunto a riempire le imperfezioni non so se con una texture così liquida sarebbe in grado di farlo e quindi queste sono le motivazioni per le quali ho deciso di non acquistarla proseguendo con la base in questa collezione non sono presenti fondotinta correttori o ciprie io infatti li indosso già e come fondotinta ho scelto l'instamoisture di Kiko appunto per rimanere in tema per quanto riguarda invece correttore e cipria ho utilizzato i prodotti del mio project pen se non sapete di cosa parlo vi lascio il video qui nelle schede passiamo invece adesso al primo prodotto che ho acquistato infatti vado ad applicare il mio cerchiello per non sporcarmi i capelli e parliamo di un olio labbra idratante che voglio andare ad applicare adesso in modo da preparare le mie labbra a un prodotto che utilizzeremo in seguito questo è un prodotto che in realtà non ero partita con l'idea di acquistare ma mi ha convinta sbocciandolo in negozio questo è il packaging vediamo per la prima volta i packaging esterni di questa collezione che sono di cartone con i richiami appunto fruttosi ci sono frutti ovunque e sono in tre colorazioni arancio gialli o rossi andiamo ad aprirlo questo prodotto è definito juicy lip oil è infatti un olio labbra devo dire che il packaging è molto molto bello il suo claim è quello di essere un olio labbra idratante contiene olio di girasole ed è presente in due versioni con estratto di arancia o di frutti rossi devo dirvi che io da questo punto di vista non ho avuto scelta perché la versione ai frutti rossi era già sold out come vi dicevo non era un prodotto che ero andata con l'idea di acquistare ma mi ha colpita tantissimo a livello sensoriale io ho un debole per le profumazioni agrumate e fresche perché soffro di emicrania e queste di solito sono le uniche profumazioni che non mi danno assolutamente fastidio anzi e quindi una volta sbocciato sulla mano una volta hanno usato nonostante io abbia 350 mila prodotti di questo tipo oli labbra sono anche prodotti che utilizzo spesso e volentieri e quindi alla fine ho deciso di acquistarlo questo è il packaging devo dire che è molto molto bello e all'interno della formula ci sono proprio dei pezzettini di scorzetta di arancia devo dire che anche un packaging abbastanza pesante questo è l'applicatore che è particolare perché ha forma di S andiamo adesso ad applicare il prodotto ci tengo a segnalarvi che questo video non è un video first impression io sono andata in negozio sabato adesso è lunedì e mi sono presa la domenica per poter almeno fare alcuni test delle prime impressioni su questi prodotti quindi ho già una piccola opinione in merito vado ad applicarlo questo come vi dicevo è un prodotto che a livello sensoriale mi piace moltissimo per la profumazione che poi si sente una volta applicato sulle labbra ma anche per la texture è davvero una via di mezzo tra un gloss e un olio vi faccio un paragone ad esempio se parliamo dell'olio labbra di Astra ecco assomiglia più a un gloss se parliamo di un olio labbra penso a quello di Joë è proprio un olio questo è una via di mezzo non è né presente come un gloss né sottile e liquido come un olio labbra il suo claim è quello di essere non appiccicoso e devo dirvi che non lo è assolutamente una volta applicato è molto confortevole rimane al suo posto non ci fa quegli anti estetici filamenti che ogni tanto i gloss o i prodotti di questo tipo rischiano di fare e devo dire è molto molto confortevole non è l'olio labbra più idratante che io abbia mai testato ma fa il suo lavoro la componente sensoriale mi piace molto e questo è un prodotto che mi è piaciuto e vi consiglio passiamo adesso al prossimo prodotto per la base che è un bronzer dedicato al frutto del pompelmo andiamo ad aprirlo come vedete il frutto è totalmente richiamato dal packaging interno e anche se andiamo ad aprire questa terra il frutto è intarsiato all'interno del pen un dettaglio davvero molto molto bello che in realtà cozza un po' con il resto del packaging che è molto più cheap meno lussuoso meno pesante dei packaging a cui Kiko ci aveva abituati ultimamente non abbiamo uno specchio e se vedete la plastica è molto molto sottile ed è trasparente riusciamo un pochino a vedere attraverso e devo dirvi che questa cosa nonostante sia un packaging molto carino mi ha lasciato un pochino perplessa vi confesso però che è un packaging abbastanza resistente perché durante i miei test quando l'ho rimesso via l'ho inserito nella scatola che si è aperta da sotto mi è caduto il bronzer per terra e devo dire che è ancora qui quindi il primo crash test è stato superato ci sono tre colorazioni di questo prodotto la numero uno che ho deciso di non acquistare perché era davvero un bronzer molto caldo e aranciato che voi sapete è un tipo di bronzer che non mi piace non utilizzo la colorazione due che è questa qui è quella che ho deciso di acquistare mi piaceva molto di più perché è molto più neutra ed infine c'era una terza colorazione che invece era luminosa quindi parliamo di un bronzer luminoso che ho deciso di non acquistare perché lo era davvero troppo secondo me aveva quasi l'effetto di un highlighter e se non mi ricordo male all'interno c'era anche qualche glitterino e quindi secondo me sarebbe stato davvero too much infatti quasi quasi se avete l'incarnato molto molto scuro potreste valutarlo proprio come illuminante perché non era satinato era proprio luminoso quindi mi ha spaventata e sono rimasta su una colorazione che mi convinceva di più questa è la colorazione che a me devo dire piace molto sono quelle colorazioni neutre che mi permettono di fare bronzing e contouring allo stesso tempo e quindi è molto molto sfruttabile questo bronzer ha il claim di essere un prodotto levigante perché contiene olio di pompelmo e silica devo dire che anche al tatto la polvere è molto molto sottile ed infine come per tutti i prodotti delle collezioni di Kiko abbiamo una profumazione che è agrumata e che secondo me richiama appunto il pompelmo molto delicata, molto fresca e non aggressiva per applicarlo vado col mio solito pennellone di Kiko questa era una limited edition, faceva parte della collezione Sicilia Notes e colgo l'occasione per ricordarvi che anche in questa collezione c'è un set di pennelli che devo dire è molto bello esteticamente ma non mi convinceva per la forma che era molto simile a quella di questo pennello ma molto più piccolina e a me questo pennello piace proprio perché è molto molto ampio e quindi alla fine ho deciso di non acquistarlo però devo dire che mi sono sembrati pennelli molto belli e anche la pochette che li conteneva era davvero molto bella, molto elegante e ben fatta andiamo con l'applicazione come vedete nel pen non c'è praticamente polvere è un prodotto molto molto sottile e non troppo polveroso cosa che in realtà devo dire a me non dispiace assolutamente ed è un pochino in linea con questa idea di un prodotto appunto che rimane sulla pelle e la va a levigare andiamo ad applicarlo sempre con la mia solita tecnica del 3 ci vado comunque pian pianino perché non sono ancora abbronzata e come vi dicevo non ho scelto la colorazione più chiara e quindi non voglio fare macchia per quanto riguarda la pigmentazione questo è un bronzer che è sufficientemente pigmentato da evitarci di doverlo stratificare troppo di metterci 6 ore a costruirlo ma non è troppo pigmentato da rischiare di fare macchia quindi è un prodotto costruibile ed è una cosa che per le polveri viso io devo dirvi apprezzo è la colorazione più scura tra quelle matte ma vi segnalo che comunque non è scurissima se vado anche a sfumarlo sulla mano vediamo che non è un bronzer che si adatta a un incarnato secondo me medio scuro quindi se avete questo tipo di incarnato io vi consiglio di swatcharlo in negozio per evitare di acquistare poi un bronzer troppo chiaro per voi questo comunque è il risultato che a me piace molto è una polvere molto sottile molto sfumabile aderisce bene non fa macchia e devo dire anche una buona tenuta il prodotto successivo per la base era un blush che su carta mi incuriosiva molto anche per il packaging che era davvero molto molto carino perché ricorda proprio quello di un gloss anche nell'applicatore è presente in tre tonalità c'era una tonalità la numero 3 se non mi sbaglio che mi piaceva tantissimo ma poi una volta sbocciato sulla mano è un prodotto che non mi ha convinta pienamente per due motivazioni la texture dovrebbe essere in gel ed essere molto molto sottile anche in questo caso andare a fondersi con l'incarnato ed è vero la texture è quasi un gel ma è molto molto accuso e in questo caso a me ha spaventato perché avevo paura andasse a separarmi i prodotti per la base al di sotto proprio perché era una texture molto molto bagnata e la seconda motivazione era che nonostante la shade mi piacesse molto una volta sfumato sulla mano andava a perdere tantissimo in pigmentazione quasi svaniva questo mi ha lasciata un pochino perplessa e quindi non mi sono fidata ad acquistarlo se però qualcuno o qualcuno di voi lo ha testato ci faccia sapere giù nei commenti come si è trovato o trovata oggi noi andremo ad utilizzare questo blush sempre di Kiko che fa parte della collezione Lost in Amalfi parliamo di un baked blush nella colorazione numero 3 Morning Kiss passiamo adesso all'ultimo prodotto per la base che è un illuminante questa volta a tema lampone si tratta di un glowing highlighter che dovrebbe essere un illuminante luminoso ma con una texture molto sottile io ho acquistato la colorazione numero 1 Golden Dream e il packaging interno si presenta in questo modo a me ricorda un pochino quello del bronzer anche in questo caso in plastica rossa molto molto sottile non abbiamo lo specchio ma il pen anche questa volta è intarsiato con l'immagine di due lamponi questo prodotto infatti è arrecchito dall'estratto di semi di lampone per quanto riguarda la profumazione non lo avevo annusato? ha una profumazione che secondo me può richiamare lampone non è fastidioso non è nemmeno troppo forte ma è un pochino chimica sa di caramella lampone piuttosto che di lampone io ho acquistato la shade più chiara vado a swatcharvela e si tratta di un color champagne eccolo qui devo dire che è una colorazione molto classica uno champagne mentre le altre due colorazioni erano un corallo pescato ed un oro rosa che però erano entrambi troppo scuri per il mio incarnato devo dirvi che anche questo qui anche se in camera risulta molto molto più chiaro forse in questa stagione è comunque un filo troppo scuro per me me ne sono accorta perché tornata a casa ho voluto compararlo con l'illuminante che adoro della passata collezione estiva di Kiko ovvero l'Unexpected Paradise che avevo sempre nella colorazione 01 che mi piaceva molto perché è un oro che posso usare tutto l'anno perché non è troppo scuro e se andiamo a paragonarli come vedete questo che è quello dell'Unexpected Paradise è molto molto più chiaro infatti adesso questo illuminante secondo me è un pochino troppo scuro sarà perfetto nella stagione estiva per applicarlo utilizzo questo pennellino qui della Eco Tools che in realtà a me piace molto perché possiamo essere sia molto sottili utilizzando la punta sia fare dei movimenti più ampi utilizzandolo dalla parte piatta vado a prelevare questo illuminante e lo sfumo sugli zigomi ci vado piano perché come vi dicevo secondo me adesso è ancora un pochino scuro nel senso che se mi metto così no ma se mi metto di fronte secondo me leggermente mi fa un pochino d'ombra e quindi non voglio esagerare ecco fatto questo è il risultato devo dire che a me questo illuminante piace molto si tratta di un illuminante che non è glitterato a meno che non ci sia qualche sottilissimo glitter che mi ha sfuggito è un illuminante classico cosa che a me piace molto perché spesso succede con gli illuminanti di Kiko che abbiano tantissimi glitter ma poca base colore quindi che siano molto molto volatili e che vadano tanto ad enfatizzare la texture della pelle questo illuminante lo fa come lo fanno tutti gli illuminanti non è l'illuminante più sottile che abbia mai provato ma la trovo comunque una buona texture e una buona formula nel senso che va comunque bene a fondersi con l'incarnato un pochino i pori dilatati in questa zona li va ad enfatizzare vado anche a fare un double check con lo specchiettino da vicino esatto non lo definirei impercettibile sulla pelle come da claim ma comunque è un buon illuminante a me piace e devo dire che non rimpiango l'acquisto anche se lo utilizzerò molto di più quando sarò più abbronzata per quanto riguarda invece la luminosità anche in questo caso non è l'illuminante più sbam o più luminoso che posseggo ma ha comunque una bellissima luce e quindi devo dire che non rimpiango assolutamente il mio acquisto detto questo come sempre riprendo il mio pennello da blush senza ulteriore prodotto sfumo i contorni e noi ci ritroviamo per gli occhi passiamo adesso ai prodotti per gli occhi il primo prodotto in questa collezione in realtà è per le sopracciglia è un prodotto che da subito non mi ha convinta ed ho subito deciso di non acquistare si tratta di questi prodotti che in realtà ultimamente si sono visti da diversi brand negli ultimi mesi con un applicatore a 4 punte in feltro che dovrebbe ricreare l'effetto dei peletti dalle recensioni che ho visto di altri prodotti simili anche utilizzandolo sulla mano secondo me sono dei prodotti che non ci assicurano poi una grande precisione e che appena l'applicatore si va un attimo a rovinare non performano più come all'inizio e quindi di per sé proprio il tipo di prodotto non mi ha mai convinta ed ho deciso di non acquistarlo infatti le sopracciglia le ho già sistemate ed ho utilizzato la matita di ELF la Micromina che se volete ho recensito in questo video qui e poi ho fissato con il gel di Benefit il prodotto successivo per gli occhi sul quale non avevo dei pregiudizi volevo swatcharlo in negozio erano una serie di palettes occhi c'erano infatti tre varianti il pack esterno infatti era lo stesso variavano gli schemi colori all'interno che devo dire non mi hanno convinta particolarmente perché erano tre schemi colori molto semplici mi verrebbe quasi da dire banali perché sono tutte shade che posseggo già nella mia collezione in altre palettes non mi convinceva nemmeno la forma non sono una fan delle palettes tonde li ho swatchati e sinceramente non mi ha convinto nemmeno la texture e la performance perché erano davvero poco pigmentati non mi hanno convinta ed ho deciso di non acquistarle il prossimo prodotto per gli occhi erano tutta una serie di matitoni in sei shade che io ho deciso di non acquistare non tanto perché non mi abbia convinta il prodotto ma perché posseggo già tantissimi matitoni di questo tipo e non c'era nessuna shade che mi ha colpito particolarmente ma devo dirvi che agli swatch erano molto pigmentati molto cremosi Kiko devo dire che con i matitoni occhi ci sa davvero fare quindi se è un prodotto che utilizzate molto e trovate una shade che vi piace vi confermo che mi è sembrato un prodotto di qualità il prodotto che invece da subito mi ha colpita ancora prima di recarmi in negozio è stata tutta una serie di eyeliner colorati e infatti alla fine ho deciso di acquistarne ben tre le shade presenti sono otto ed io ho acquistato la numero uno la numero due e la numero tre queste matite sono pensate per essere performanti all'esterno ma anche nella waterline queste tre colorazioni mi piacevano molto e quindi ho deciso di acquistarle all'interno il pack è molto molto classico molto semplice ricordano un pochino le matite di NYX sono molto molto simili a quelle di una collezione estiva di NYX che aveva sempre il pack un pochino trasparente vado a aprirvele tutte e tre e vi faccio gli swatches eccole qui questa in alto è la colorazione numero uno che devo dire è un oro ma mi ha colpita perché è davvero un oro molto caldo molto scuro come base con tutta una serie di riflessi micro glitterini color oro più chiaro quindi fa un bellissimo effetto ha una bellissima luce e mi ha convinta fin da subito la seconda colorazione invece è un bellissimo corallo che non avevo in nessun'altra matita occhi mentre la terza colorazione è un magenta oggi faremo qualcosa di un pochino diverso e andremo a creare un look solo con queste matite se vedete lo specchio è perché sono cecata e quindi se voglio ottenere un buon risultato devo stare un pochino vicina nonostante le lenti partiamo con la colorazione numero tre c'è il color magenta e andiamo a ricreare un contorno del nostro occhio quindi vado a fare una sorta di eyeliner e poi mi ricongiungo all'angolo interno parto dall'angolo esterno dell'occhio e tiro una linea questa tra le tre rispetto alla matita rossa è un pochino meno pigmentata ma è comunque fin da subito presente parto poi dalla parte interna dell'occhio non troppo vicino al dotto magari in caso vado ad allungarla dopo e disegno il contorno della mia palpebra questo eyeliner secondo me ha una mancanza nel packaging che è la mancanza di un temperino io infatti dopo la prima volta che l'ho utilizzato ovviamente la punta è andata a smussarsi e sono dovuta andare a recuperare il temperino di un'altra matita in questo caso quello della matita della Givenchy per poter rifare la punta non un dramma però sarebbe stata una cortezza in più prendiamo adesso la matita dorata è la numero uno e la vado ad applicare su tutta la palpebra mobile tiro fuori poco prodotto alla volta per non romperla tra l'altro essendo la punta piccolina riusciamo anche ad essere abbastanza precisi in modo da non lasciare spazi bianchi tra la linea fatta in precedenza e il colore che stiamo applicando adesso ovviamente con un matitone più grande si farebbe molto molto prima io però di matitoni ne ho già tanti soprattutto dorati e quindi non volevo un prodotto che non avrei utilizzato questa colorazione invece mi mancava proprio come eyeliner e come matita da rima interna e devo dire che mi piace molto proprio per questo gioco di riflessi e glitterini dei quali vi parlavo prima una base più scura con questi riflessi dorati più chiari che devo dire mi piace molto passiamo adesso all'ultima matita che è la numero 2 che è secondo me la più particolare tra le colorazioni e che è davvero molto molto pigmentata questa andrò ad applicarla nella rima interna questo è il risultato come vedete è davvero ben pigmentata e quindi vi confermo che questa matita performa molto molto bene anche nella rima interna quello che vado a fare è prendere poi un pochino dell'illuminante con le dita lo vado a tamponare all'angolo interno e a sfumare sulla prima parte della mia palpebra mobile così facendo andiamo anche un pochino a fissare la matita al di sotto rendendola più long lasting ovviamente dovessi fare questo look con anche altri prodotti andrei probabilmente a fissare tutte le matite con degli ombretti però devo dirvi che quando ho testato questi prodotti io l'ho fatto come ho fatto con voi adesso sono passate circa otto ore dopo che avevo fatto il look se non mi sbaglio ho fatto anche una foto e devo dire che era tutto ancora al suo posto quindi vi confermo che queste matite anche non fissate con un ombretto una volta che si asciugano rimangono al loro posto e danno una buona tenuta per quanto riguarda la waterline che so che è problematica io non ho una waterline particolarmente problematica e su di me soprattutto questa shade che è la più pigmentata delle tre ha performato davvero bene con un'ottima tenuta detto questo faccio anche l'altro occhio e ci ritroviamo per il mascara ed eccoci qui per l'applicazione del mascara anche qui parliamo di un prodotto che all'inizio non avevo pensato di acquistare ma che poi mi ha incuriosita questo è il packaging esterno se andiamo ad aprirlo all'interno si presenta in questo modo il frutto richiamato in questo caso è l'anguria ci sono tutti i semini per il resto è un packaging argento semplicissimo questo mascara era presente in tre colorazioni un marrone molto 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 caldo e che quindi non mi incuriosiva particolarmente un color quasi petrolio molto particolare e poi il classico nero come vi dicevo era un mascara che lì per lì non mi aveva incuriosita particolarmente finché non mi sono concentrata sullo scovolino che è uno scovolino in silicone ma è fittissimo di piccolissime setoline mi sono detta guardandolo devono essere davvero perfette per andare a separare ciglia per ciglia un effetto che a me piace molto io sono già andata a piegare le mie ciglia con il piegaciglia perché con questo tipo di scovolino altrimenti non riuscirei a farlo e le mie ciglia rimarrebbero sparate dritte all'infuori come fanno sempre andiamo ad applicarlo vi confermo come già avevo notato dal primo utilizzo che è proprio l'effetto che fa questo mascara riesce davvero a prendere tutte le ciglia anche le più piccoline a separarle non da un grandissimo volume ma c'è un ma se noi andiamo ad applicare una prima passata poi aspettiamo un pochino e passiamo con una seconda comunque si riesce a raggiungere un buon volume infatti adesso terminata la prima passata aspetto un attimo e vado con la seconda ecco fatto questo è il risultato con una seconda passata il volume è andato ad aumentare mi sono sporcata anche tutta la palpebra come sempre poi andrò a sistemare anche perché lo scovolino non è gigante ma non è neppure piccolissimo e devo dire che questo mascara a me non dispiace non mi ha fatta saltare dalla sedia ma non è nemmeno un cattivo mascara vi segnalo che secondo me è ancora molto molto liquido sono sicura che tra una settimana circa quando la formula si addenserà un pochino le performance saranno ancora migliori e rischierò meno di sporcarmi se cercate un mascara tutto in uno forse non è il mascara per voi perché per quanto riguarda la curvatura delle ciglia uno scovolino così piatto non è sufficiente però devo dire che lo trovo comunque un buon mascara e al di sopra di un mascara incurvante per essere sicura comunque di riuscire ben bene a separare le ciglia ma dargli un po' di volume io non ho nessun problema ad utilizzarlo vi segnalo infine che questo mascara contiene olio di ricino che dovrebbe avere un effetto emolliente e che si comporta molto bene nelle ore infatti non cola non si sbriciola non mi sono ritrovata pezzettini di mascara sul viso e è molto facile da struccare quindi anche da questo punto di vista è approvato adesso lo vado ad applicare anche sulle ciglia inferiori poi completo anche l'altro occhio e ci ritroviamo per parlare delle labbra sono andata a togliere con una velina ogni eventuale residuo dell'olio labbra che in realtà si era quasi del tutto assorbito e possiamo parlare dei rossetti di questa collezione il prodotto in realtà è solo uno c'è una linea di rossetti classici in bullet cremosi ma con due varianti una variante classica ed una variante perlata devo dire che io all'inizio non volevo acquistare nessun prodotto per le labbra perché ultimamente fatemi sapere se anche voi siete della mia stessa opinione non capisco questo trend di fare uscire tutti questi rossetti cremosi morbidi luminosi quando dobbiamo ancora tutti portare le mascherine e quindi non si riescono poi nel quotidiano a sfruttare quindi ero partita con l'idea rossetti no rossetti no però comunque volevo farvi sapere la mia prima impressione quindi ho iniziato a swatcharli le colorazioni perlate devo dirvi le ho subito scartate sono dei rossetti luminosi con una perla non ci sono grossi glitter all'interno ma secondo me hanno un effetto un po' stile anni 90 un po' retro nulla non mi piacevano però sbocciando i rossetti cremosi sono arrivata ad una colorazione che mi piaceva tantissimo un colore perfetto per l'estate e quindi alla fine confesso che non ho resistito e ne ho acquistato uno parliamo di questo rossetto qui come vi dicevo la versione classica non perlata nella colorazione 04 che è un bellissimo rosso fragola il packaging richiama molto quello del mascara è argentato con questi semini di anguria e ancora una volta il frutto dominante è l'anguria che devo dire rispetto ad altri frutti si ripete su più prodotti se andiamo ad aprirlo questo rossetto è molto molto bello perché ha la particolarità che il bullet è intersiato proprio come se si trattasse di un anguria cioè abbiamo le strisce presenti appunto all'esterno di questo frutto il nome di questa linea di rossetti infatti è watermelon creamy lipstick e contiene all'interno olio di semi di anguria ricorda in effetti quella di questo frutto vado a sbocciarvelo qui sulla mano questo rossetto è fin da subito pigmentatissimo che è un'altra delle caratteristiche che mi ha colpita e mi ha convinta all'acquisto andiamo ad applicarlo è un rossetto cremoso e quindi prima voglio andare ad applicare una matita rimanendo a tema Kiko la matita che avevo più simile a questa colorazione è questa qui della collezione unexpected paradise cioè la collezione estiva dell'estate scorsa nella colorazione numero 3 ecco fatto matita contorno labbra applicata devo dire che è stato molto più difficile del previsto perché la formula secondo me è un pochino cambiata si sfalda proprio ho provato anche a fare la punta con il temperino e mi ha praticamente staccato tutta la punta della matita fatemi sapere se anche voi avevate acquistato queste matite le waterproof lip liner e se anche a voi hanno fatto questo scherzetto ho fatto davvero fatica e poi mi sono ritrovata con delle bricioline di matita sulle labbra detto questo andiamo ad applicare il rossetto che davvero come vi dicevo è una colorazione che mi piace tantissimo e che trovo perfetta per la stagione estiva questo è il risultato e devo dire che questo rossetto mi piace moltissimo mi piace come vi dicevo per la colorazione che trovo molto viva molto accesa perfetta per l'estate trovo anche se abbini bene alla matita che abbiamo inserito nella rima interna per la pigmentazione che è molto presente e poi mi ha colpita per una cosa che assolutamente non mi aspettavo da questo tipo di prodotto ovvero la durata perché pur essendo un prodotto molto molto cremoso su di me è performato molto molto bene quello che è successo è che con il passare delle ore dopo circa due o tre ore visivamente è andato a perdere la componente luminosa guardandolo allo specchio sembrava quasi un rossetto classico se non matt non per quanto riguarda il comfort perché rimane comunque un rossetto molto molto cremoso e trasferisce ma otticamente perdeva la patina lucida e però rimaneva al suo posto e devo dire che non me lo aspettavo assolutamente ed ho testato in passato rossetti di questo tipo con una dorata molto molto inferiore ovviamente non è paragonabile a quella di un rossetto no transfer ma per essere questo tipo di prodotto la trovo molto molto buona passiamo adesso all'ultimo prodotto di questa collezione che è un setting spray dedicato ancora una volta all'angoria che è presente non solo sul packaging esterno ma anche nella profumazione devo dire che questo setting spray mi incuriosiva perché a differenza di altri setting spray di Kiko del passato o di quello della linea permanente non conteneva alcol anche se conteneva molto molto profumo infatti la profumazione era davvero intensa quello che non mi ha convinta particolarmente era l'erogatore perché lo spruzzo era comunque abbastanza presente abbastanza violento andava molto a bagnare la pelle e avevo paura mi lasciasse delle goccioline sul viso o andasse a spostare i prodotti per la base il setting spray poi è un prodotto che utilizzo ma non quotidianamente ne ho già tanti ho già i miei di fiducia e quindi alla fine ho deciso di non acquistarlo questo era l'ultimo prodotto di questa collezione ci tengo però ancora a ricordarvi due cose la prima è che acquistando tre prodotti riceviamo in omaggio una pochette che devo dire è molto molto carina mi sembra anche di buona qualità e riprende esattamente quello che è il packaging esterno dei prodotti e la seconda cosa che ci tengo a ricordarvi è di non farvi prendere dall'ansia di acquistare tutto perché come sempre Kiko a distanza di qualche settimana da quando escono le collezioni incomincia a fare degli sconti quindi acquistate quel prodotto quei prodotti che davvero non volete perdere perché a volte succede che vadano sold out ma per gli altri potete tranquillamente aspettare gli sconti detto questo io vi lascio ai close up e ci ritroviamo per le mie conclusioni finali devo dire che per quanto riguarda i prodotti che ho testato mi sono piaciuti tutti non ho riscontrato nessun flop ma ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti più di altri partiamo dal bronzer che forse è uno tra i prodotti che mi ha colpita di più che trovo davvero un ottimo prodotto bella colorazione si sfuma bene ha una bella texture e quindi sono contenta del mio acquisto qualcuna tra voi mi ha già scritto su instagram dicendomi sono sicura che lo passerai almeno ad altre 10 generazioni di project pen e probabilmente è così perché è talmente grande che rischierò di finirlo tra 120 anni ma è un prodotto che mi piace quindi non rimpiango il fatto di averlo acquistato anche le matite occhi devo dirvi mi sono piaciute le trovo un po' particolari rispetto ad altre uscite nelle capsule collection di Kiko ci sono tantissime colorazioni anche particolari quindi ve le consiglio ed infine mi sono piaciuti molto i prodotti labbra a partire dall'olio che trovo sia davvero un buon prodotto come texture come esperienza come profumazione anche come idratazione anche se come vi dicevo non è il prodotto più idratante che abbia mai utilizzato e il rossetto cremoso proprio perché era un prodotto dal quale non mi aspettavo particolari performance e invece mi ha stupita per come performa per la tenuta e quindi sono davvero contenta anche di questo acquisto i prodotti che forse mi hanno colpita un pochino meno sono il mascara e l'illuminante che trovo comunque dei buoni prodotti ma non al pari degli altri dei quali vi ho parlato detto questo io vi ho detto tutto quello che volevo farvi sapere su questa collezione ovviamente i prodotti che non ho acquistato sono quelli che lì per lì non mi hanno convinta poi ovviamente io alla prima impressione posso essermi sbagliata ma per questo conto su di voi come è già successo in passato e quindi se utilizzerete qualche prodotto di questa collezione che io non ho acquistato non dimenticatevi di venire a farmi sapere come vi siete trovati se vi va se questo video vi è piaciuto mi raccomando non dimenticatevi di lasciarci un mi piace iscrivetevi a questo piccolo canale per supportare la mia pazza avventura nel mondo del make up e non dimenticatevi di venire a scrivermi giù nei commenti se questa collezione vi incuriosiva quali prodotti vi incuriosivano ed ovviamente se ne avete testati come vi siete trovati detto questo a me non resta come sempre che mandarvi un gigante grossissimo bacio e ricordarvi che se vi va io vi aspetto sempre qui cesanna ciao ciao Grazie a tutti.